Ciao a tutti ragazzi, felice Halloween e benvenuti sul canale della Mesa. Oggi io sto aspettando i miei colleghi, non sono Gianni e Domix98, perché faremo un bel vlog in cui vi faremo vedere come passiamo il nostro Halloween, come ci travestiamo e tutto il resto. Ciao ragazzi, sono Domix98, mi trovo in camera mia e mi sto preparando per andare a prendere Non Sono Gianni per fare un bel video tutti insieme, quindi niente, ciao. Ciao a tutti, qui Non Sono Gianni e come vedete abbiamo già le cose pronte, stiamo per andare a casa di Mocumbo per la nostra festa d'Halloween. Quindi ora li aspetto e vediamo, a dopo. Ok ragazzi, abbiamo sistemato quello che dovevamo sistemare, siamo andati dai cinesi e adesso direttamente a casa di Mocumbo, a dopo. Salve. E questo bordello che ho. E ora c'è anche Domix. Sei pronta, Non Sono Gianni, a vestirti? No, non ho ancora, mi rinvole il costume, quindi. No, non ho ancora, mi rinvole il costume, non ho ancora, mi rinvole il costume, Diente, che c'era il costume. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.